a a ok gra un'arma del troppo che siano subito mazzi perchè non posso fare io ma su e voli che vuoi stare a me come dei vizionti buttatevi quando stiamo a corsa lì quando hai parlato c'è mi ero buttato io malissimo ragazzi devo attirare ai dintorni ragazzi va uno sì c'è raga non ci valla però ci va sapete dove ci va alla montagna proprio vicino ragazzi va uno dei tuoi amici ragazzi mi fredda la banca che cazzo ragazzi è andato mio fratello ragazzi stanno curando comunque ok uccisi 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 cazzo non lo vedo neanche no raga da me da me da bella comunque è una frattura eh dammelo qualcuno ha bende vabbè raga li porto pure io crederò dati comunque ha laolla la piglio io alla fizione di dura imparato no la venditura e l'av video io ragazzi no già una no dai ragai che c'è mamma un secondo finisca la partita la venite da me eppure io ne tengo 200 in tutto beh raga credo che non sta materiali abbo raga tanto stiamo a sponde abbo ragazzi venite sempre dietro di me no raga tanto io piaccio la nuova venditura sono due ragazzi amici materiali ok altri cento la carne tengo 22 50 in tutto raga io ne tengo 250 in tutto no no raga ma ne tengo 300 in tutto sì raga li teniamo se li facciamo e io ne tengo 400 in tutto raga la safe alla piazza ora venite dentro tutti i loro di me no perché che si è unito non faccio pure a te è buonissimo che cos'è mamma mi voglio l'attenzione eh che fai raga oh oh raga ma io non mi sento più e vi sentite no no è nato non ti va ah raga siamo qua oh no no guardiamoci qua guardi alberi raga perché il mio fratello è scemo raga sì solo che io ho venti tre di vita raga se avete qualcosa non c'è io vengo a nessuno e chiamelo e vieni un attimo da me ora gara sei non ti preoccupo un madonna che partite raga partite partite ragazzi da scherzi c'è non so se la possiamo fare no è vero no raga partite 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 no raga partite no 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 siamo muoio ora gara ragazzi la skype se la facciamo appena di avanza safe poi se eh ma non ci facciamo no di cosa fai al fight finale non ce la facciamo ci buttiamo giù se valendo questa safe è un culo della madonna è la terza dovrebbe essere lenta sì prima mamma c'è il mollo c'è ci vogliamo così poco no che non è lenta non è lenta diciamo metà l'ora velocissima Oh! Oh! oooh! oh no! c'era a 2 quad mouveti 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 kitchen venne a prendere sono più lento ci sono due cord dammene uno dammene uno viename a prendere tu muc glam vena donnéri non andare l'acqua vabbè ma non è ci vuole tubo la cassa non sto nell'acqua bravo non è vero siamo usciti non è vero se giurano ma mi sto inguaiato portami vicino agli alberi così faccio un po di mozzo e qua è bravo un porto tre tre trego mai sai quanto è che servono ora i miei clienti siamo arrivati insieme a svegliamo quando stai alberi bravo adesso non sono un po dove c'è facciamo un sacco di moda è ucciso a 1 c'è una ma ci possiamo vanno a curire già ma sta vedendo un altro merito ciao scappata ok ragazzi vinciata per me non potevi prendere il tuo giorno è che devo che tu l'avevo preso adesso questo bello mi fa bisogna che lasciate adesso non la facciamo proprio si fa la faccia non è mai mai se capire anzi facciamolo quando arriviamo al mare ma non teniamo pochi mazzi credono di non lasciare lo spazio ci sono vero anno quindi le più porto possibile vecchi bordo possibile saura caren anch'io ma iniziamo la bravo la è per sé no 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 e materiali and attaching no 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 vieni fiducia abbiamo perso la palla ma non sai nuotare dove sto io in vero guarda ecco inizia inizia non la faccio molto alto e basta infatti ora vabbè se basta no mai dopo che basta si basta basta io abbastanza non fare niente vado visto non tiene 300 dei materiali liberatore quando mi viene in tutto 500 la casa dove contro 2 credo no no due contro due contro quattro forse 2 contro 1 contro 4 ho forse 2 ho forse 2 ho forse 2 ho forse 2 L'ho per! 3 squade da due lo faccio d'ora 1 vado impararlo vado! 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 vado il paralo che faccio nuovo aree faccio un negozi giusto? basta 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 si lancia una granata guarda un'idea aspetta il caso vogliono salire da noi in veri siamo a 2 contro 3 è buono ti immagino scorsa aspetta ma io li vedo oh la si stanno curando si stanno volando la calca oh 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 muove no 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 Oh, 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 oh.